Il bacino del Mediterraneo è diventato culla delle perturbazioni atlantiche. A tal punto continueremo a vivere una fase di tempo instabile o a tratti perturbata, con temperature nelle medie del periodo e quindi normalmente autunnali. Uno sguardo rapido alle mappe di previsione per il weekend. Sabato 9, nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione, con associate piogge e rovesci che nel corso della giornata potrebbero bagnare tutto il territorio regionale. Venti moderati da sud, tendenti a disporsi da ponente ad iniziare delle ore pomeridiane. Martirreno molto mosso, mosso lo Ionio, solo localmente poco mosso. Temperature in ulteriore calo dalla sera. Domenica 10 novembre trascorrerà l'insegna del tempo tipicamente instabile sul medio-alto di Reno, con la possibilità di timide nevicate sulle cime di Polino e Sila, principalmente nella prima parte della giornata. Dovrebbe migliorare temporaneamente dalla sera. Temperature in ulteriore lieve calo e venti tesi dai quadranti occidentali. La tendenza per lunedì 11 ci mostra un nuovo peggioramento ad iniziare dalle aree sudorientali, ma al tempo che potrebbe risultare anche intenso nel corso della notte. Ma ovviamente, vista la distanza temporale ancora rilevante, vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro portale www.meteocalabria.net. Grazie per l'attenzione e buon weekend!